Novità importanti arrivano direttamente da Nicolo Schira che ci parla di una situazione abbastanza chiara in casa Juventus. Scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM Newsport, oggi che è il post Juve Bologna, parliamo dopo Juve Bologna ed è un Juve Bologna che ha visto un altro caso emblematico che si evolve nel mercato. Scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM Newsport e come sempre vi ricordo qui sarete sempre aggiornati sulle vicende che vedono coinvolta la vecchia signora quindi se vi va in maniera del tutto gratuita iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Andiamo alla notizia perché Nicolo Schira apre a quello che è un ventaglio di mercato che vede la Juventus coinvolta negli ultimi giorni di mercato e la vede attiva sì perché secondo me la Juventus non farà niente negli ultimi giorni di mercato ma occhio perché si sta muovendo qualcosa. Secondo me è evidente che dalla partita del Bologna si capisce che qualche ritocchino ci dovrà essere. È evidente anche che i giocatori tutolari della fascia sinistra sono cambiato e come prima alternativa Samuel Inni Junior, giocatore capace di entrare a gara in corso e spezzare le partite in due. Un vecchio fedelissimo della Juventus era Kostic secondo Nicolo Schira. Kostic che non ha giocato di nuovo neanche un minuto nella partita tra Bologna e Juve dopo non aver giocato neanche un minuto contro Udinese. Beh è chiaro che a questo punto non ci sono più dubbi. Si è aperta ufficialmente la trattativa per cedere secondo Nicolo Schira proprio Kostic. Il serbo dovrebbe lasciare la Juventus nei prossimi giorni. C'è la Premier League su di lui e c'è la Bundesliga. La Juventus lo scorso anno l'ha acquistato con una cifra tra i 10-15 milioni dalla borsa Moncenglaba ed è chiaro che a questo punto la Juventus vorrebbe ricavare quantomeno la stessa cifra. Perché? Perché in casa si è ritrovato un cambiasso che devo dire che aveva entusiasmato molto più nella prima giornata quella contro l'Udinese, un po' meno contro il Bologna. Però da quella fascia se non ha impressionato cambiasso ha comunque dato l'assist per i gol del 1-1 Samuel Junior che è entrato ha dato subito un brio sulla fascia sinistra capace di saltare l'uomo. Lui rispetto a Kostic gli viene preferito così come viene preferito cambiasso perché in questo nuovo modo di giocare la Juventus in cui c'è l'esterno o meglio la seconda punta che chiesa che si allarga più e rientra più sulla fascia cambiasso è più interscambiabile. E quindi esattamente come l'è un po' di più Samuel Junior. Kostic invece va dritto per dritto. Kostic in questo momento sembra essere lontano dalla Juve. Secondo me qualche altra uscita come per esempio l'uscita ufficialmente di scena di Bonucci, l'uscita di Kostic e qualche altro movimento può smuovere qualcosa in ottica entrata. Perché è chiaro che la Juventus da questo punto di vista ci deve ragionare. Cioè è chiaro che Kostic ha fatto bene l'anno scorso anno, ha dato sicuramente garanzia a un punto di vista fisico, che questo non è da dimenticare. Kostic è stato sempre. Secondo me l'uscita di Kostic può agevolare l'ingresso di un giocatore sull'auti destra. Ricorderete appunto che abbiamo parlato più e più volte dell'interesse della Juventus per Holm. E voi mi direte come, gioca nell'altra fascia? Sì, perché quei soldi che ti arrivano da Kostic possono essere utili sull'auti destra, lì dove UEA, se non gioca UEA, gioca McKennie. Che attenzione, ha giocato benino contro il Bologna. Perché sicuramente qualcuno mi dirà, eh ma guarda che ha giocato bene col Bologna, si è assaltato ogni tanto l'uomo, è sembrato in una buona condizione fisica. Però secondo me se un giocatore non è di quel ruolo, non è di quel ruolo. Cioè McKennie è una mezzala di inserimento, non è un esterno. E l'esterno deve saper saltare l'uomo, saper correre. E McKennie non soltanto non ha una fisicità eccellente, ma per di più non salta l'uomo praticamente mai. Perché dover adattare McKennie se hai la possibilità di fare mercato? Ed è per questo che secondo me McKennie dovrebbe essere anche lui ceduto, a mio avviso. Ma soprattutto se riesci a cedere Kostic puoi andare incontro a un'operazione di mercato per andare a cercare un esterno a destra. Perché i ricambi servono? Perché in questo Juventus servono uomini che riescono a spezzare in due le partite, che riescono in qualche modo a sbloccare la partita a gare in corso. Anche perché abbiamo ritrovato una Juventus che nei momenti di difficoltà torna a avere delle... O meglio, nei momenti in cui va sotto a livello di risultato torna a avere dei problemi. Torna ad avere la confusione classica che poi lì davanti sembra tutto confusionario. Mentre secondo me ci vorrebbe un po' di ordine. E ordine ce l'hai quando metti i uomini nel proprio ruolo. E, ad esempio... Quello di McKennie è un esempio abbastanza lampante. L'uscita di Kostic dovrebbe portare a una quindicina di milioni. La Juventus con lo Spezia potrebbe approfittare gli ultimi giorni di mercato proprio per tirare un po' il prezzo. Olm è un giocatore che, come vi ho detto, era stato accostato anche al Sassuolo. Che però giocando a 4 non so fino a che punto potrebbe trovare in Olm un uomo adatto. E all'Atalanta. Guarda caso, l'Atalanta che vede in Olm il possibile sostituto perfetto di... Di Atteburr. Giocatore che in passato all'Atalanta ha fatto delle cose eccezionali e... Devo dire che per caratteristiche un po' lo ricorda. È un giocatore ben strutturato. Quindi quando il cross parte da sinistra, Olm con i suoi inserimenti potrebbe dare una mano... Abbasserebbe ancora di più, secondo me, anche il fattore legato all'età media. Perché se ci pensate, passeresti è un giocatore di quasi... Di oltre 30 anni come Kostic. O comunque quasi 30enne ad uno che è un classe 2000. Perché anche Olm sarebbe il giovane da inserire in questa squadra. E i terzini in questa Serie A sono essenziali. Cioè, lo stiamo vedendo in una maniera praticamente... Iperlampante. Guardate ad esempio la fascia sinistra del Milan. Come va forte quest'anno. Lì dove, quando Leao ha bisogno di smarcarsi e di trovare il compagno adatto. Ecco che trova la giocata eccezionale per Teo Hernandez. Che su quella fascia è letteralmente imprendibile. Guardate l'Inter. L'Inter quest'anno ha un pacchetto di esterni, secondo me, forse i migliori che ci sono in Italia. Perché a sinistra hai il lusso di avere titolare Di Marco. Che secondo me è uno degli esterni più forti che c'è in Europa. E come prima alternativa Carlos Augusto. Che è stato il miglior esterno l'anno scorso con il Monza. A destra hai Dumfries come prima alternativa proprio l'ex Juventino Quadrado. Che da subentrante gli ultimi 30 minuti, secondo me, non è neanche male. Guardate, ad esempio, anche il Napoli. Che ha trovato in Di Lorenzo lo scorso anno un giocatore non importante. Importantissimo. Secondo me è anche uno dei migliori terzini che c'è in circolazione. Insomma, questo per dire che le grandi squadre d'Europa, ma in questa cosa parliamo in Italia, hanno sempre dei terzini di un certo livello. Soprattutto se vai a giocare col 3-5-2. Dove le ali sono essenziali. E quindi, se dal lato sinistro puoi aver trovato il tuo equilibrio, la tua qualità con primo giocatore cambiato, prima alternativa, Samuini Junior, che nella seconda parte della partita ti può spezzare un po' in due il ritmo. A destra hai IWA, che devo dire che in queste prime due partite ha fatto bene, ma non benissimo, ma devi avere la prima alternativa. E se Kostic, come sembra, ci è riportato da Nikolo Schira, sembra essere molto vicino alla sessione, ecco che un innesto serve. Quindi occhio a Holm, anche se sarebbe anche bello, personalmente, vedere anche un giocatore, oltre che fisico, anche tecnico. Cioè, perché abbiamo Healing e Cambiaso e UEA, che sono tutti molto fisici, molta corsa, però poca tecnica. Mi piacerebbe ogni tanto vedere un terzino, che poi di fatto non è un terzino, perché è un quinto nel centrocampo A5, un po' più tecnico, un po' più di qualità, ecco, capace di saltare un uomo non soltanto grazie alla corsa, ma anche grazie alla qualità e alla tecnica. Sarebbe bello, ma staremo a vedere. Gli ultimi giorni di mercato scopriremo quale sarà la mossa proprio di Giuntoli da questo punto di vista.